Eccomi qua, sono qua per invitarvi e per dirvi una cosa molto importante perché sabato 18 maggio ci sarà una partita di calcio che verrà giocato, vedremo i membri di Sesto San Giovanni contro i membri del comune Sesto San Giovanni e questa partita verrà giocata perché? Per aiutare l'Onlus il sorriso nel cuore, verrà chiamato il primo trofeo nel sorriso e questa partita è veramente molto importante perché tutto il raccolto verrà dato appunto a questa Onlus il sorriso nel cuore per aiutare i malati di tumore ma soprattutto anche gratuitamente a tutte le loro famiglie e questo è un messaggio molto importante. Dobbiamo sostenere questa associazione, per questo vi invito veramente di venire tutti quanti il 18 maggio a Sesto San Giovanni a vedere questa partita. Beneficenza, beneficenza bisogna secondo me per chi lo può fare, io lo faccio, secondo me è molto importante perché facendo bene al prossimo o comunque a delle persone che hanno bisogno, persone che hanno problemi, se noi anche io nel mio piccolo se posso aiutare lo faccio molto volentieri, io collaboro a parte che mi fa molto piacere di adesso se lo posso dire così che sono entrata in questa famiglia che appunto sostiene questo Onlus e questo Onlus che ha il sorriso nel cuore per me è molto importante perché appunto avendo anche io un'esperienza familiare perciò se posso fare qualcosa io lo faccio. Io lavoro poi anche, collaboro anche con due altre associazioni, una è Keren Sheer che è un Onlus che aiuta i bambini in India, soprattutto nella zona di Andhra Pradesh, aiuto questa associazione per aiutare i bambini ma anche le loro famiglie di avere una vita migliore, si può appunto donare dei soldini a questa associazione per aiutare queste famiglie in difficoltà. O se no, come ho fatto anch'io, ho preso tre bambini in adozione, una Radica, Mary e poi Manis, mi rendo molto orgogliosa perché comunque io sono sempre in contatto con loro e poi proprio due settimane fa mi è arrivata una telefonata da Keren Sheer, proprio dall'associazione che ha la base a Venezia, che mi hanno chiamato dicendo che con il mio aiuto Mary, uno dei miei tre bambini, è stata una delle più brave come allieve a scuola, perciò grazie al mio aiuto lei ha avuto questo risultato e mi ha fatto veramente, quando ho ricevuto questa telefonata, poi mi hanno mandato anche le foto, la lettera, anche lei mi ha veramente riempito il cuore. Poi c'è un'altra associazione che è la SMA Ratone, che aiuta i bambini che hanno questa malattia, la SMA. La SMA è una malattia che è una malattia delle cellule nervose, della corna anteriore che parte praticamente dal midollo spinale e praticamente impedisce di dimuovere alcuni muscoli. Io per loro, a parte organizzare dei eventi, faccio anche la SMA Raton. La SMA Raton significa che si corre, si corre tutti insieme, così raccogliendo i fondi per aiutare, perché purtroppo per questa malattia non c'è un trattamento e non ci sono neanche cure per guarire, diciamo per far sì che vada via questa malattia, però sicuramente loro stanno facendo delle ricerche per aiutare, per migliorare la vita di questi bambini. Perciò io una volta, barra due, una volta all'anno corro aiutando anche loro per avere una vita migliore.